Giovedì sera a Bergamo, presso la Casa del Giovane, si è svolta la prima edizione di Venazio Est Virtus, cerimonia di benvenuto per i 150 nuovi cacciatori bergamaschi. La maggior parte dei nuovi abilitati la caccia nel 2011 ha un'età compresa tra i 20 e i 30 anni. Tra di loro anche 7 nuove cacciatrici. Una serata ben augurante perché l'attività venatoria quest'anno è iniziata sotto bellissimi auspici, anche perché la Regione Lombardia ci ha dato una mano con l'approvazione delle leggi regionali. Una serata importante perché accogliamo nella grande famiglia venatoria bergamasca, come ha detto lei, 150 nuovi cacciatori di cui il 70% giovani, quindi che saranno il futuro venatorio della nostra bellissima provincia. Per chi l'ha vissuta come una tradizione in famiglia c'è una sorta di continuità naturale per quello che facevano i nonni, per quello che hanno fatto i padri e credo che un elemento fondamentale ce l'abbia il contatto diretto tutti i giorni o con gli uccelli da richiamo per esempio, quindi con l'allevamento degli uccelli, il mantenimento degli uccelli o addirittura con i cani perché con i cani si crea sicuramente un rapporto che oserei dire di amicizia. I giovani oggi devono capire che rispetto ai loro genitori devono essere cacciatori in un senso più profondo, devono essere i primi controllori e difensori dell'ambiente, devono dedicarsi a mantenere i boschi, a mantenere gli alpeggi, i pascoli perché oggi purtroppo non abbiamo più chi lo fa per noi perché tutte queste attività agricole sono state di fatto abbandonate e quindi molto spesso i boschi sono lasciati all'incuria e quindi sono territorio poco favorevole anche per la selvaggina. Il calciatore è la vera sentinella dell'ambiente nel senso che se vissuto, se praticato nel giusto modo come del resto lo prevede la normativa, questi cacciatori sono presenti 365 giorni all'anno sul territorio con interventi di miglioramento ambientale, con pulizie di sottobosco, aiutano a selvaggina nei momenti di difficoltà che normalmente è quando arriva parecchia neve, specialmente da noi in montagna e questo è la dice lunga contro chi sempre per demagogia è contro la nostra passione.